Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi allora oggi un video che avevo già anticipato di massaggio alla schiena e ho con me una crema corpo e un olio cominciamo dalla crema, ne prelevo una quantità abbondante e lo spalmo così e poi e poi Sì, non so, non so. Non c'è nulla vado un po' scendo vado un attimo dall'altra parte cerco di fare la giusta pressione cerco di non fare troppa pressione cerco di lavorare soprattutto in queste zone qui che sono quelle in cui si accumulano più stress in cui appoggiamo anche tutto borsa, zaino un po' esserci c'è il collo e si richiediscono le spalle quindi cerco veramente di lavorare in questa zona cerco di portare giù un po' essercizio un po' essercizio in questo caso e il collo che ciissanno è una distinuал si richiede un po' essercizio si richiede un po' essercizio in questo caso e o non ho in questo caso può fare un po' essercizio un po' essercizio l'uomo in questo caso potrezzpゴimini Spero che riusciate un po' a sentire Sono della pelle Vi adoro i massaggi qui sul collo Qui Di solito a me si accumula la tensione qui Un po' qui A lei invece si accumula più Qui sopra, tipo qui no? Secondo me è molto Dipende molto dalla posizione che si assume durante Tutta la giornata Dipende come si tengono Borse, zaini Soprattutto la postura Io tendo a stare storta Lei tende a stare un po' coppa Quindi abbiamo E' vero Quindi abbiamo due male In due posizioni diverse Potrei dire una cavolata Ora vado a usare questo olio Un olio all'arnica con pino muco E questo è fatto proprio Per aiutare con A sciogliere i muscoli Infatti l'arnica La frizione all'arnica La frizione all'arnica con l'anno essenziale di pino muco E' un antico rimedio per la cura del corpo Da utilizzare per il massaggio muscolare E ottenere una immediata e durata sensazione di benessere E' ottimo soprattutto per il massaggio Dopo l'attività sportiva Non è il nostro caso Apilo che ho le mani unte Questo devo dire la verità E' un olio Un po' secco Che tende A assorbirsi quasi subito Quindi E Vado a abbondare un pochettino E questo è un olio di fresco pazzesco E questo è un olio di fresco pazzesco E' un pochettino L'ho presato tutto Praticamente l'ho presato tutto sulla coperta Oddio, vabbè Ho sentito il caldo? Non si sente? No Vabbè Adesso provo a massaggiare un pochino anche la parte centrale Questa è un pochino che incontravo veloce l'altro Questa è una la parte strada per divino Questa è un pochino anche per il colore Questa è una scissima Adesso mi concentro un po' sul collo Ora pensate che ci sia qualcuno a farvi questo massaggio dopo una giornata di lavoro, magari davanti al computer O se avete un lavoro in cui si fa fatica, un lavoro fisico ancora pezzo E' anche bello tornare, c'è qualcuno che fa massaggio la schiena Dopo il passo successivo direttamente crollare l'atto, penso, se neanche cenare Grazie 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 Adesso finiamo sempre con questo Questo Ok Finisco il massaggio con Ah, potrei anche dare il rullo Finisco il massaggio con un po' di pressione fatta con questo ciccino qui In realtà A voi magari sembrerà anche un po' dei segni che la faccio Che sta applicando tanta pressione In realtà La pressione è veramente poca La pressione Sì Sì E andiamo in qui un po' con il rullo proviamolo Questo sarebbe fatto per le mani e per i piedi, infatti l'ho provato, l'ho provato a mettere sotto la pianta dei piedi, è spettacolare, è veramente gustoso, ma sono bellissime. Allora direi che è ora di abbassare le luci e mandarvi la buona nuova. Buonanotte, con ancora un po' di massaggio con il rullo, è un po' anche difficile ottenere. Buonanotte. 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 Che li spera. Buonanotte. 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 Buonanotte.